Sì, adesso non è trovo di quei... forse è là dentro, vado a vedere. Wow! Potrebbe essere quella di quei... ah no, sei venuto da lì? Sì! Eh, non c'era un tasto? Eh, c'era tipo una leva! Sì! Aspetta eh! Era l'atturata, l'atturata! Ah, ok! E perché c'erano tutti questi brutti signori sotto? Possiamo andare dentro il funnello, quindi? Forse è quello al centro, sì, adesso un attimino che mi sto rifocillando di roba... Vabbè, vabbè, tu prendi la tua roba, io prendo la mia, quindi è normale che io la vedo. Aspetta che devo prendere un po' di roba eh! Sto prendendo giusto giusto un po' di roba... ecco qua! Arrivo! Vai! Andiamo a sinistra adesso! Sì! Eh, io ho già visto già... ho già fatto! Vai, vieni! Madonna santa, ma non mi fanno muovere! Vado nell'acqua! Veste, ma che due palle questo qui! Ah, è qui! Devi entrare dentro la busta! Guarda, se non entro nell'acqua non esco, quindi... Ecco qua! Dov'è che devo andare? Dietro! Dietro papi! Di qua! Ok! Arrivo! Che fatica! Ma chi è che mi spara? Vaffanculizzati! Sì! Allora! Oh! Arrivato! Eccomi quazzo! Eh, c'è qualcuno! Il robottino! Il mini è di 209! Wow! Veste, quello è un'enorme! Noi! Come mi hai fatto pensare così velocemente? Eh, pezzamone! Papi, qua giù! È dove? Ma... Ah, è finito il livello! Ma dove sono andato? Non lo so! Dentro... Il pozzo! Sono andato dentro un pozzo, papi! Ok! Cioè... Rendi di conto! Sì mi è entrato! Scusatemi se sono un pochino lugubre ma è normalissimo perché stiamo... Stiamo registrando di sera quindi... Sono leggermente lugubre! Eh... Va bene, ma... Ma dove sono? Dove sono? Oh! Wow! Via! Ci sono i piragni nell'acqua! Via! Veloce! Veloce! Eh sì! Wow! Ok! Ok! Sono fuori anch'io! Anch'io, anch'io! Ti ho fatto secco quello di fronte! Oddio! Non c'è entrale qua sotto eh! No, no! Ma neanche... Manco un po' cazzo! Quello perché in testa? Pip! Preso! Oh! Cazzo! Piragna! No! Chi è che mi... Chi è che mi butta in acqua? Oh! Mi fanno saltare da una pozza all'altra! Vabbè! Vabbè! Qui! Qui! Sto arrivando! Come si fa a noi! No! Eccomi! Sono dietro di te! No! 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 No!